Uno è tra i giornalisti e conduttori più apprezzati della televisione italiana, l'altro è noto come «ex re dei papparazzi», con una vicenda giudiziaria ben nota alle cronache. Insieme, Massimo Giletti e Fabrizio Corona, formano una coppia insolita che fotografata insieme per le vie di Milano, ha alimentato la curiosità di quanti si sono chiesti i motivi che Rostar dietro all'incontro. Il timanale Spike ha pubblicato le immagini parla dell'incontro avvenuto davanti a un locale in centro a Milano, i due sono amici da molti anni spiega il giornale malincontro anche essere il preludio per la prima apparizione pubblica di Corona, con un'intervista dai contenuti fortemente emotivi o addirittura per un programma insieme. Considerata la situazione attuale di Corona, qualora davvero si tratti di progetti lavorativi tendenti al suo ritorno in TV, la certezza è che per il momento non appaiano realizzabili, l'ex Re dei paparazzi, infatti, per ordine dei giudici, non puoi lasciare interviste, postare sui social o telefonare se non agli avvocati e ai familiari, pena la revoca della libertà. Almeno fino a quando non verranno ridiscussi i termini per la revisione della sua libertà con il GIP del Tribunale di Milano, l'incontro resta quello che appare, una semplice passeggiata tra amici. Al prossimo episodio